Nome Diole, misure 80-60-85, capelli assai, a figli non ricorda, ultima occupazione Suora, ha smesso i voti dichiarando si vive una sola volta, dov'è un pub? Nome Donatella, segno zootecale Tapiro, sport nuoto e pugilato, hobby cacciatrice di taglie, ultima occupazione Torera a Malaga, dice Tori o uomini fa lo stesso, è una questione di corna. Nome Silvia, lingue nessuna, perché? È sordomuta, segni particolari? È sordomuta! Attore preferito Lessi, attrice preferita Citta, ultima occupazione Call Center per non udenti tacitori. Nome Armita, misure 85-85-85, scarpe 42, lingue napoletano, perché? Perché un drink tendrà, hobby gossip, capelli gialli, neri, a piacere, segni particolari e un travestito.